salve a tutti e ben ritrovati con cittadini di ult one oggi siamo con nani contro kislev una bellissima rush nanica di quelle proprio t'arrivo in faccia e ti meno come un nano sa solo menare vediamo se kislev reggerà il colpo nel frattempo come al solito io ragazzi vi invito a lasciare un mi piace di un commento per aiutarmi con l'algoritmo ad iscrivervi al canale perché so che tanti guardano i video senza essere iscritti allora se venite a vederli e vi piacciono e lo so che vi piacciono iscrivetevi che così non ve li perdete detto questo vi ricordo anche che ci sono tutti i link social in descrizione i link affiliati di amazon e distant gaming su cui potete risparmiare e supportare il canale in maniera totalmente gratuita ci sono anche gli abbonamenti per chi di voi si volesse abbonare e supportare il canale direttamente sono due livelli il primo parte da banalmente un euro al mese e vi dà già l'accesso a tutti i video in anteprima detto questo allora mamma mia la front line nanica se è enorme ragazzi partiamo da kislev che è un pelino più compatta front line di cosari corazzati 5 e back line di cosari normali sempre 5 poi abbiamo doppia griffon legion e doppia zinx tripla zinx in the wood zinx in the wood che mi piacciono tanto così come stanchi essendo uno dei pochi carri che funziona le spell ha lo spirit bear che a me non fa impazzire il calderone che non è affatto male e basta le zinx sono ottime perché hanno antifanteria e api quindi ottime da usare anche sui miners per impedirgli di tirare le 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 loro granate anche perché essendo pochi modelli non prendono chissà quanto da danno delle granate la griffon legion mi sembra un investimento molto costoso per della cavalleria contro i nani forse mi sarei portato due cav leggere e avrei portato un'altra zinx in the wood non lo so in più la linea kislev vita è molto 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 forse troppo compatta questo permette permette al nano di essere molto più largo guardate e adesso andiamo a analizzare il nano che si porta doppio minatore con blasting charge più un paio di minatori normali sui lati sui lati front line più leggera con degli slayer contro la cavalleria degli slayer pirates per difendersi a corto raggio poi abbiamo più al centro nani guerrieri e nani guerrieri con grande arma per avere api e al centro abbiamo nani guerrieri minatori e soprattutto i tomb seekers e almeno 33 unità di ranger quindi per avere del tiro che comunque a scuolo di bronzo che potrebbe battere quello dei cossari tra l'altro la mappa non è assolutamente facile e i cannoni qua sarebbero stati difficili da utilizzare poi abbiamo dei giro cotteri che sono una bella soluzione di mobilità che può andare a rompere le scatole alle zinx in the wood anche perché il tiro chi slevita si è compattato tutto sulla front line questo impedirà ai ai cossari normali di poter sparare tranquillamente sui ranger o sui giro cotteri quando questi arriveranno a braccare qua guardare come gli slayer stanno già braccando la griffon legion due unità di cossari normali potrebbero già sciogliere questi slayer queste unità di slayer pirates stanno difendendo il tiro e i nani guerrieri dalle zinx in the wood che sono una buona opzione di mobilità per andare a prendere il tiro ci sta ma il tutto deve essere protetto dai giro cotteri con questi cossari in questo caso qui abbiamo della griffon legion che è andata sui pirati gli ha fatto un bel danno ma i giro cotteri sono totalmente liberi di poter sparare su questa griffon legion che adesso è presa panino con anche ostanchia dentro ostanchia che tira anche una bella spell qui qui abbiamo degli slayer non è proprio lo scontro preferito agli slayer basterebbero i nani che lande arma ma guardate che posizione molto poco simpatica per kislev che si è riuscita a farsi flancare dai nani nani che hanno perso si un po di backline per queste zinx in the wood ma che con l'aiuto dei pirati e di altre unità poste sulla sinistra riescono a riprenderne il controllo guardate come questi nani guerrieri stiano arrivando nella backline queste unità di cossari potrebbero essere tranquillamente portati indietro anche perché qua viene messa dentro un'altra griffon legion contro nani con grande arma e slayer che sono le unità fatte apposto per uccidere questo genere di cavalleria st'altro lato i tiratori vanno ad aiutare gli slayer pirates che send unbreakable sono un'unità molto fastidiosa per la griffon legion da affrontare i girocotteri dove che sono al momento hanno accompagnato fuori una zinx in the wood quindi la situazione per kislev si complica decisamente torek è qua a supportare la front line in modo che abbia perfect vigor guardate questi minatori qui qua abbiamo dei cossari che stanno combattendo con i doom seekers sei minatori dall'alta ottima combo un'unità elite con pochi modelli un'unità molto più leggera permette di performare molto bene di far prendere meno danno all'unità elite queste griffon legion mi sembra che non abbiano quasi molto spazio in cui andare o stanchi mi sarebbe piaciuta bombardasse molto di più qui dove c'è un bombardamento nanico bello importante forse leggermente fuori posizione sui lati salta a parte sono tornate le zinx in the wood che si accaniscono forse un po troppo soprattutto fuori dalla copertura degli aceri questi cossari normali avrebbero già dovuto iniziare a sparare su girocotteri queste zinx in the wood forse le avrei mandate qua in questo bel blobbino e avrei ciclato le cariche della griffon legion all'infinito anche perché kislev ha decisamente più mobilità tolti i girocotteri quindi può riposizionarsi cercare di sfruttare i suoi tiratori senza avere tiro di contro batteria sulle unità naniche prima di scudo tipo i doom seekers o con meno armatura come i minatori in questo caso la front line di kislev ha lentamente ceduto le zinx in the wood vengono sempre rincorse da girocotteri che in questo caso credo che stessero sparando alla griffon legion qui abbiamo una griffon legion che potrebbe andare a prendersi i rangers molto tranquillamente come stanno facendo questi cossari con armatura questi cossari andrebbero riposizionati tranquillamente mentre si ciclano le cariche con ostacchi e sparare su un'unità alla volta alla fine il punto debole dei nani è quando si separano in questo caso le zinx in the wood vengono tranquillamente riportate qua a gestire da fuori slayers qua c'è una bella spell di ostacchi su un bel bloc nanico decisamente buono qui ci sono ancora dei cossari con armatura che formano molto meno ostacchi dovrebbe ciclarle a carica su sta roba qui per supportarle e qua abbiamo un bel contingente di kislev che può gestire al meglio tutta la roba nanica vedete come appena si allargano in anni hanno problemi quando sono compatti invece decisamente riscono a fare bene qui abbiamo un rangers che sta uccidendo le zinx in the wood quindi buona parte la mobilità kislev vita sta abbandonando il campo di battaglia qua abbiamo i nani che hanno completamente vinto ostacchi ancora abbastanza spazio per bombardare specialmente i doom seekers deve solo stare attento ai girocotteri perché adesso girocotteri andranno su tutta questa griffon legion non andrei a caricare gli slayer pirates visto che hanno zero armatura avrei continuato a cisarli con i cossari piuttosto sarei andato a uccidere questi miners questi due tiratori qua insieme a questo qua possono ancora fare molto bene se si mettono a conca e ostacchi acicla tutto quello che è rimasto per esempio ostacchi potrebbe andare su questi tiratori qui invece che entrare nella conca di fuoco dei girocotteri il nano comunque fa in modo che l'unità di kislev nonostante la loro passiva debbano abbandonare il campo di battaglia qua abbiamo degli altri cossari con armatura leggermente fuori posizione questi renza stanno facendo molto bene sulla griffon legion anche perché era in corsa ai doom seekers e sparata addosso dai girocotteri vedete qui come stanchi riesceva andare in route i nani guerrieri potrebbe caricare anche questi miners e pian pianino si poteva andare a liberare le varie qua abbiamo dei cossari che cercano di coprire altri cossari con nani guerrieri slayers forse sarei andato a sparare sugli slayers ostacchi sta facendo molto bene deve andare a punire tutte queste unità a mezza e mezza in modo da riequilibrare la situazione non che per chi si è messa benissimo anche perché qua la griffon legion ha decisamente spirato ma ostanchia può supportare in maniera celere parecchia parecchia roba in più finché questi cossas rimangono in giri girocotteri vedete sono molto lontane dalla mappa ostanchia sta facendo decisamente bene adesso può allontanare anche questi miners bello bello l'utilizzo di ostanchia ottimo torica che insiste nell'inseguirla ma i girocotteri credo che potranno dichiarare la parola fine a questa battaglia qua c'è un'immensa processione a questo punto questi si possono già girare sui miners e devi stare attento a non prendere danno con ostanchia qui andrebbe qua ci vorrebbe una micro tutta mappa che permette di di kaitare molto bene qua questo netta qua è inutile che la insegue all'infinito a questo punto mi sarei probabilmente fermato prima ostanchia va sempre sotto ai girocotteri ottimo buona buona scelta qui sono tornati due cossas che vanno mandati subito a sparare su questi minatori qui e bisogna fare in modo che toric non arrivi su questi cossari questi cossari hanno ancora un sacco di munizioni possono proteggerti molto bene dai girocotteri sono utili anche contro slayer e doom seekers che sono qui belli pimpanti che aspettano di tranciare qualsiasi cosa venga lanciato loro contro la situazione è decisamente disperata per kislev qua è rimasto un armlet costas che va portato indietro il primo possibile questi costas qui devono decisamente kaitare peccato questi altri non hanno sparato sui miners qui un dar fuori ha vinto e direi che ormai visto anche il positioning delle varie unità possiamo dichiarare un bel gg per i nani guardate il danno che si prenderà adesso costantemente o stanchia c'è tutta una serie di roba arrivate qui la spell forse un po sprecata mi sarei tenuto un altro tipo di bar barra scusate di barra della magia per quando tutta sta roba qui era blobbata tardi tardi la decisione di disparare bombardamento decisamente si e qua abbiamo bello che finito di chiacchierare dalla battaglia rimane ostanchi che sta andando in armi e loss tenuto insieme solo dalla passiva possiamo che decisamente andare avanti e infatti entra l'arma e loss parecchi errori da parte di kislev non mi è dispiace tutto lo schieramento iniziale molto bello invece il rush di di nani belli ampi in modo da limitare la capacità della mobility avversaria forse avrei usato in maniera meno aggressiva le le zinx anche perché avrebbero potuto aiutare a vincere dove siano i nani guerrieri e soprattutto i miners queste unità di armlet costars e una volta che tu vinci un paio di engage con l'aiuto delle zinx non hai bisogno di riposizionarti perché puoi già fare a fuoco di supporto con le pistole slayer niente di che hanno contrastato decentemente la cab mi sono piaciuti di più gli slayer pirates anche perché permettevano di supportare le due ali estreme tiratori sono stati compromessi subito dalle zinx così come i miners beh tomseekers molto bene considerando che erano ancora full modelli e praticamente con più di metà vita girocotteri molto molto solidi hanno portato danno sulle zinx e sua stanchia e sulla cavo quindi buoni nani guerrieri qui direi che ho spavuto quelli con grande arma che hanno fatto il loro lavoro detto questo io vi rinvito l'invito a iscrivervi al canale perché so che tanti non sono iscritti e guardano comunque video quindi iscrivetevi in modo da aiutarmi soprattutto di lasciare un mi piace e un commento per aiutare il video con l'algoritmo vi ricordo che potete abbonarvi per supportare il canale il primo livello è un euro al mese e potete già vedere video in anteprima e vi ringrazio di cuore se decidete di farlo è un grossissimo aiuto e soprattutto vi ricordo anche che ci sono i link affiliati di amazon di stand gaming tramite cui se fate un acquisto supportate il canale perché le aziende mi danno una piccola percentuale con nessun costo aggiuntivo per voi è molto interessante il discorso soprattutto per quanto riguarda i dlc per chi ancora non l'avesse preso passate sui stand gaming con il mio link che potete risparmiare un altro po rispetto allo sconto che già c'è su stima detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video Grazie mille Grazie mille